cominciamo a studiare dai voglio di fare un sacco di cose non ho voglia di fare niente che bella giornata che oggi ho voglia di fare un sacco di cose adesso vado a cantare a ballare a scrivere si a fare a fare di tutto c'è una giornata orribile penso che non farò niente tutto il giorno vediamo si oggi mi trucco così poi in video lezione posso accendere la telecamera finalmente oh no 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 la telecamera no anche gli occhiali no per favore no ma ancora questi film romantici mamma mia un po' di fantasia cristo santo sono così carini sono così carini così carini grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti